Come equalizzatore sulla batteria ho utilizzato appunto il Q10 Paragraphic Equalizer della Waves E quindi ho semplicemente aumentato i 250 Hz di 1.5 dB Poi ho aumentato intorno ai 10.000 Hz di mezzo dB circa E poi di 2.9 i 20.000 più o meno Per dare un po' di brillantezza Ora vi faccio ascoltare tutta la batteria processata senza l'equalizzazione generale Ok, adesso vado ad aggiungere l'equalizzazione che ho dato in più La volgo La metto Quindi più corpo sul rullante anche un po' sulla cassa E un po' più di brillantezza sui piatti chiaramente Grazie 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 Grazie